La sinistra stavolta allora? Eh no, sempre a destra in teoria Non è uguale Ah c'è una scaloppia in teoria C'è un camion che ha messo dad Ah come favore, ecco ok ok Ok, ora qui sta il laser tra l'altro quindi Ok Non c'è la porta La hole là c'è una telecamera E una guarda Dov'è la stanza allora? Di qua Qui, in una hole Quella in fondo? Si, qua giù Là Mamma mia Hola Hola Ho premessi i cani per primi allora Watch out guard Allora chi entra? Eh per me qua non si può entrare No infatti bisogna passare dall'ingresso principale Beh aspetta forse da qui vediamo Da qui si si può entrare Oh buono Provo Questa è una femmina che schifo quello di voce Ok, sei dentro Occhio che la guardia viene verso di te Questa Guardia È una guardia Ma però è rassicurante la voce della donna Ma Ma Aspettate Guardate anche da quest'altra stanza Ah Adesso dobbiamo guardare le stanze attorno a quelle di Snake Ok Perché non si sa mai che le guardia entrano arrivino dalle stanze laterali Io sto su questa qui Io sono sulla A Lui è Sei nella B giusto? Quindi tu sei sulla C Eh, Berti Sto andando sulla A Quindi Occhio, occhio, occhio Sì sì, tranquillo Io ti guardo Chi c'è anche di guardare tramite le telecamere Vedete che avrete dato che sono out Sì Ah, sì Ok Ok Non lo vedo nessuno Non lo vedo Cosa Hai mai visto il santo combattere in televisione? Occhio che arriva qualcuno Occhio Ok, ok No, posto Da qui dovrei essere sicuro L'ho segnata La sacca la metto qua Allora Oh, sono due nella ola fuori dalla porta Però no Si stanno allontanando Sono di quattro Sì 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 Sì, li sto segnando Allora intanto Ah, questa qua sola Se riusciti a vedere i quadri da prendere Dovrebbe averci Com'era la cosa? Adia Eh, il segno di venduto Dovrebbe avere un coso rosso Un puntino mi pare Credo Qualcosa simile Ok, quelli sono da di là Quindi Un cerchio rosso In basso destino Ecco qua ad esempio quello Esatto E ce n'è un altro nella stanza Io li metto un sinistro Poi Buona idea Poi toccherà qualcuno che mi aiuta Perché Sì Il trasporto scendiamo tipo in due Uno solo resta a guardare Ok Ci avrebbe facile accesso alla lobby C'è un guardo Ci sono due guardie che stanno camminando Ci sono due guardie che stanno camminando Ci sono due guardie che stanno... Una guardia che torna da te Sì, vedo Guardia che arrivo in un B No? No, no, no No, dai là Allora c'è un quadro con il punto rosso Lì praticamente Lato sud dell'interno della stanza A Della O'Là Ci sei vicino O'Là Dell'altra parte No Ok Passa il muro che c'è davanti Ok Ok Ok, gira, scusa All'interno intendevo Ok Lì, a destra e a sinistra E quello lì, giusto? Ok, perfetto C'è, ci sono dei cerchi rossi Sono con la rova che dobbiamo prendere, no? Sì Non l'avevo mai notato tra l'altro Ok Ok No, ma l'avevo già detto prima Allora, la lobby se riesco Ah, pure questo qua Ah La lobby se riesco a prendere la guardia Che è l'unica che c'è La metto in un sacco e la porto fuori Lì abbiamo l'accesso facile all'uscita E lì può entrare qualcuno Ok, butta un occhio Dan alla lobby un attimo Qui c'è una guardia che sta tornando Ah, intanto io posso fare un giro rapido le telecamere da qua Allora, lobby, c'è qualcuno che arriva dal WC E c'è un'altra guardia che mi stava per notare Lì, l'ho segnato Uno Ok Aspetto che se ne va quello Qua a sinistra ci sono due guardie Qualcosa potrebbe venire da te Mi sa tutte e due E in trenta In lobby ci sono almeno due persone nella lobby Ok, una di sicuro arriva L'altra se ne sta andando Voi vedete che le sto segnando con la lobby, vero? Sì Ok, perfetto Io continuo a segnarle così Sì, aspetto che se ne va l'altra Infatti le faccio fare Ok Ecco Ne hai una nella hall A e il tizio Adesso sta guardando Ok Passa Sì, sta guardando di qua Passa pure nasconditi lì a destra Destra, destra, destra Ah, ah, giusto O farla fuori Vediamo se ti arrivano dall'altra parte No Dal vicino non sta arrivando nessuno Ok Dottor 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 Vediamo se arriva di nuovo qualcuno sulla hall Dall'ae Dai vicini Eh, io porto intanto fuori un divinto Non lo so C'è una guardia qui però Non sta venendo verso di te ancora Vediamo un po' no Mi conviene tenere d'occhio la hall e allora Forse Ok C'è una guardia che sta uscendo dalla volée No Una guardia è venuta dalla volée Ok Quindi attento a rientrare Allora intanto ho aperto la porta principale Porto il divinto qua Ehm Tutte le guardie stanno venendo di qua Sì Se uno vuole entrare e cominci a prendere le cose va bene Ma abbiamo trovato tutti i dipinti Occhio che la guardia è proprio davanti alla stanza di sicurezza Sì Eh Una Quella che era nella hall e si è spostata nella D Quindi con la parte è abbastanza pulita Un'altra guardia nella hall e Senza davanti alla porta Io posso dirvi Io posso dirvi dove si trovano un paio di dipinti nella Cioè Un dipinto nella hall B Ok E uno nella E Ci sono Almeno da quello che vedo La guardia sta venendo verso l'ingresso principale Nella B c'è uno Ok Da quello che vedo Cioè Una guardia che arriva nella lobby Anzi Ce n'è già una nella lobby E un'altra che sta arrivando Dalla E alla lobby Sì Si stanno scambiando praticamente Ok Torno nella A Ok Torno nella A Così sei Ehm Ok Abbiamo una guardia nella lobby Ok E non è il caso di passare in questo momento Sto parlando Sto parlando Quindi niente Ma scherzo Ho fatto una posa alla Jojo E mi stava per notare ma non mi ha notato Sta venendo una guardia nella volea Ok Si sta spostando Perfetto sta uscendo dalla lobby Devi passare Vai Vediamo Vediamo Adesso lo riprendo A posto Vediamo Vediamo Una guardia dalla E Si sposta alla B Libera Lobby libera La guardia nella wall B Nella wall B ho visto un quadro rubabile Si Due quadri rubabili Quindi gli altri due mancanti immagino Non so quanti siano totali Ah Questi sono 4 Ah no il 4 è il minimo giusto Si Aha Allora ci do un occhio a tutti Hanno il cerchio in basso a destra rosso e bianco giusto Tad Si Si Ok Allora controllo Io ne vedo uno nella wall B e un altro nella Uno nella wall E Io ne vedo uno nella wall E Adesso controllo tutti e vi le dico Allora questo no? Si Intanto arriva La guardia nella wall E Arriva una guardia La wall Io vorrei vedere l'animazione quando faccio lo sprint in laterale Bellissimo Sono veramente curioso vista l'animazione quando sali le scale Due Due nella wall E Ok E arriva nella lobby una guardia Dalla wall E Dalla wall E Aspetta snake Ah ce la faccio tutto Ce la fai? Ok Ok Nella Hall E Si vedo Ce ne sono due dei dipinti nella wall E Ok Abbiamo 4 ora Il numero 4 è quello che bisogna Ora se vuoi ottenere più Non muovere Ci dicesse anche quanti ce ne sono in totale sto bastardo Ne ho contati due nella E Adesso controllo la D Allora nella D No 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 Ok Dalla 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 wall E si riesce ad andare avanti? Assolutamente Allora vediamo subito Dalla wall E Nella Dalla Dalla Nella D Nella D non ci sono quadri Nella D non ci sono quadri rubabili Sto ricontrollando Zero No Nessuno al cerchio Scusate un attimo, non parlo un minuto Allora, sì, niente D clear 8 quadri e nessuno di quelli è rubabile Ah, qua Nella C purtroppo C'ha due punti Ah, sì, nella C c'è almeno uno All'interno della stanza Vediamo se riesco a vedere Perché non riesco a vederli tutti Alcuni sono nascosti Ok, uno nella parte interna Ah, aspetta, ok Qua no Riesco a intravedere quelli interni No Ok, fammi vedere l'ultimo L'ultimo C'è un punto di... Allora, nella C so che ce n'è uno Vicino al tendone Ho in sé capo a mezzo secondo Occhio all'interno della mia zona Ok Eh, ci sono anch'io adesso Allora Sei nella... Perfetto, adesso ti dico Nella hall B Stanno arrivando... Ok, perfetto Facciamo nove volte così Sennò... Sì, sì, sì Intanto sto controllando gli altri quadri della B Ok Gli ultimi due Dovranno essere clear Clear, vediamo Sì, no, c'è un altro nella hall B Praticamente in lato, diciamo, nord Ok Quindi, allora, aspetta Aspetta che ti guido Mi faccio il... Ma questo qui davanti L'altro Giusto Allora Facciamo... Sto sopra e tu Ok Adesso quando... Te lo segno Ok Sta arrivando un altro in... Fammi lo segnali Ok Ok, piacciono un'altra Mi stava vedendo Ma... Ok Allora, come procede? Abbiamo il prossimo quadro nella hall B Ok, avrò passato Ok, allora, quella è passata C'è un'altra qua sotto No, la sta vedendo Tal Perfetto Ok Passature Ah no, aspetta Ok Adesso... No, è entrato nella hall B Aspetta Guard Cos'è? Ok, sì, sì Guarda, guard Vado nella hall qua a fianco Mi preoccupa questo qui, vabbè Fa di là Nella hall, la hall dove va? Ok, lì Ah, vai a destra, vai a destra, destra Sì Ok 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 Oltre al passato lo trovi subito Occhio, occhio, ti arriva Eh, faccio il giro Non è neanche caro, avviso Aspetta che lo segno Ok, il quadro ce l'hai dalla parte opposta del muro che stai guardando Ok, questa hall nessuno sta venendo verso di te per ora Guarda, guarda Ho una guardia appena entrata, hai pochi secondi Ok Ok In quella hall ne ho contato solo un quadro, eh Questa nella C Qua nella B li avete presi entrambi? Eh, sì Erano due, sì, ho preso Nella C c'è solo un punto cieco che non ho potuto controllare Ops Per cosa era quell'ops? Per cosa era quell'ops? Per cosa era quell'ops? Ok 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 Allora 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 Aspetta Ok Continua A destra Ok Continua A destra Ok Quello è segnato Vediamo la lobby La lobby sta uscendo dall'altra parte Quindi Uno è fuori L'altro Perfetto Perfetto Nella D non l'avete ancora presso nessuno, vero? Nella D andiamo a controllare Forse non c'era nessun quadro È quella che ho controllato prima? Sì, non c'era nessun quadro Lo ricontrollo Nella E Nella E Nella E Nella E Sì Sì Due raccontati Nella E Aspetta controlliamo se non c'è nessuno qua Non ci sono telecamere Ok Allora sì Qua ce ne sono due Uno è nella struttura centrale Il muro centrale Nel lato est Sì Aspetta Aspetta Fermo Ok Sta venendo da te Te l'ho segnato Ma Io sono sopra la holla a fianco Eh Gira Perfetto Vai scappo Non riesco a leggere come si chiami sta holla Lobby Niente Dove sei? Eh la D La D non c'è nulla Sì no Sto tenendo d'occhio che non entri no guardie Ah ok perfetto Scusa Nella E invece ne ho visti due riquadri E l'altro penso sia anche lui nella struttura centrale Però sì Ora per paranoia guardo anche i quadri Andiamo Vediamo 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 Aspetta controlliamo se ce ne manca uno qua Quello no Quello Ah sì è di là A sinistra Snake Ok dall'altra parte Perfetto lì Nella hall non c'è niente vero? Nella hall Nella lobby Nella lobby L'entrata non c'è nessuno Mi sa che l'abbiamo presi tutti L'abbiamo presi sei almeno penso Cioè No Vediamo se dice qualcosa qui Sì Abbiamo presi Ah no Un achievement quindi Direi che l'abbiamo tratti tutti giusto Sì l'abbiamo tratti tutti Sì l'abbiamo tratti tutti Sanno succedere le guardie e quindi Un achievement Ne abbiamo uccise due comunque eh No volevo dire No No Però no Eh no erano Erano uccisioni necessarie Una era quella della hall Che ci avrebbe impedito di passare L'altro era quella delle telecamere Ma comunque bravissimi dai Da vero è stata fantastica Vabbè tutti qua Senza fare di scordire eh Sì 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 Appassionato dei discusi Hai guadagnato zero dollari In base alla tua tariffa di contratto giornaliera Bello Sembra così di essere a lavoro Aspetta il terzo giorno Ok no Al terzo giorno dobbiamo guardare adesso Lo ricordo bene No era il quarto giorno No no il terzo era Gesù Ma magari dovrebbe essere sto guida Sì questa è veramente una cazzata Se è come l'altra Ah sì questa Sì mi ricordo Questo può andare credibilmente bene o credibilmente male Ah Bene bene Qui cos'è che bisogna fare? Ah no È un corridoio Praticamente Ah ok Praticamente Questa può andare in Due modi Può andare in due modi Praticamente Noi non spaghiamo di tutto Dobbiamo portare dei dipinti No Vole L'ho preso Infatti sì Partiamo lì dentro al furgone Perché poi lo chiude Giusto Prima portiamo dentro tutto Ok Ok Quanti sono? Almeno 8 no Quanti sono? Quanti sono? Almeno 8 no Quanti sono? Io ne ho già portati due Fortunatamente Credo che abbiamo già evitato L'assalto soggetto della polizia Quindi può andare bene Ora dobbiamo vedere soltanto Per chi lo dice Ma no Sai che l'assalto accade soltanto Se siamo stati beccati Nella fase prima In realtà mi pare che tutto accorlo Chi risponde? Già fatto Bene Da 9 Minimati da 9 Ok 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 Praticamente 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 Ma ti rimango fuori Che succede adesso? Eh Non lo vorrei scoprire No Ok Non sparate Molta Non fanno nulla Ah Vedi C'era la bici C'era Giusto Dobbiamo venderli Sì Adesso ci manda un mezzo Per raccoglierli Sì Tecnicamente è una finta Vendita Ma a noi servono Serve ripiazzare questi cosi Dentro la casa Che cos'era? Un senatore Che sta comprando Quadri rubati Quindi abbiamo rubato i quadri Guadagniamo soldi nel venderli E poi li usiamo per rapinarlo Soldi comprati con le tasse Soldi comprati Che cazzo adesso Cosa dobbiamo fare? Prendere i dipinti? D'accordo Lanciargli i dipinti Great Great Money's coming down Ma per ognuno C'erano nove sacche? Great Quattro No no Per ognuno ha una sacche Oddio Eh Buttatemi cosa? Ah c'è uno Eh no Ci ha dato solo Due Ah ok ok Maio maio Ah ok Minchia Ok Eh no invece Ok Un due Tre quattro E ne abbiamo uno a testa Non ci ha dato una sacca Io ho del denaro Eh Eh Ah no eccola qua Quante ne avete? Quattro a testa Uno due tre quattro cinque Sì sì sono nove Ok Mo ci divertiamo Perché dovremmo fare tre viaggi Già Eh Sapete ho visto un video di due Due persone Che solo è che lo fanno questa missione senza abilità Tipo livello 1 praticamente Beh sì A loro piace soffrire A noi no A noi piace la vita Eh a tanti che là ci sono gli operai Che sono civili Sì Vabbè Mi pare che bastava stare a sinistra nel momento giusto Sì Proviamo Se sono solo loro Sì vabbè facile E poi si entra qua Ok Vabbè Come professionatore è quello lì Quello nella pubblicità eh Che c'è su Dov'è? Eh c'era un cartellone a destra Ah ah qua Devo lanciare la storia Vabbè Ok Ah eccolo là è vero No Può essere Può essere davvero Sto dicendo come hai passato Non sei passato dentro Invece no Non sei passato dentro Sì Perché il tizio per cui stiamo lavorando Ehm 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 No No Non buttarle le altre Basta quella un po' più avanti Perché adesso ne raccogliamo una testa eh sì No Ok No Allora prendo questa Ah Allora no Quella era messa apposta avanti Allora vado a raccogli- Se la prendo un perlanta è andata tutta bene Oh Ok Ah ok ho capito Vai allora la metto qua e la Facciamo così Prendi l'altra Ma sì Oppure potrei fare una cosa del genere Ehm Le lanci una e raccogli la No 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 Eh esattamente Facciamo un giro solo Dai No 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 sì L'ho fatto tanto Chidateli Attanto qualcuno deve tornare indietro Quindi il tempo che ci metteranno Eh sì Sì infatti Sì ma in sta fase qua non lo fare Ok Aspè che stanno passando Portati Eccola Passo 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 Io sono già pronto a tirargli una freccia negli occhi eh Vedete solo L'amore di Dio ti butto un dado io negli occhi Madonna Ma la freccia è incoccata Non resiste Devo 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 resistere Stupidi impulsi Ok 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 Ora ci divertiamo Ok Ora non ci divertiamo Ehm Ehm No Non mi posso dire di far andare il nome adesso Che palle sti Vabbè Hai un attimo di diarrea Arrivi tra poco Ok Ehm Ho I favori I favori Ehm Prendi tutto Vengono ripristinati Quindi Vabbè dai Ok Vi dico che torno dal bagno quando finiamo il colpo Con tutte quelle telecamere dovrebbe essere abbastanza fattibile Infatti posso usare anch'io volendo Eh Mostrazioni di vantaggio Uh Mle 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 Snake Medico attacco di emozione Eh dimmi Guarda Tu hai il terzo senso Come abilità Sì Mi pare di sì Ce l'hai Ehm Tipo platinato Ehm Completata Al massimo Ehm Non lo so Mi dici per Guarda Guarda in Sorveglianza E vedi se puoi scegliere l'opzione Sì Righami la spia Sì Mettila Mettila Ok Non so a sorveglianza Ah posso scegliere dove? Sì Dove la metto? Non lo so sinceramente Che f***ata Posso metterlo anch'io? Posso metterlo anch'io? Ma avete entrambi? Sesto senso Oddio no Sono tutte rosse Dimmi chiedo la verità Sesto senso Niente Ah quello Snake tu puoi farlo? Ah vediamo che altri C'è l'opera che vuole mettere Quindi penso di sì Ok Allora scendiamo Vediamo Allora c'è la lounge Che in effetti è quella grossa E detto è inutile In tutto direi che è inutile Proviamo a metterla qui Che dite? Sì buono Cosa c'è no? E' in basso a sinistra Sulla lounge Lounge Non lo so in realtà In base a come capita C'è più o meno roba lì Eh effettivamente Non saprei Forse qualcosa che prenda Quelle stanze di merda In mezzo Vabbè ma comunque Noi abbiamo anche i quadri Sicuramente Quindi non so bene Questa cosa faccia Cioè questa indica le guardie fissa proprio Ah no aspetta 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 Ho capito Qua Qua Aspetta Devo togliere mi sa quello che avevo messo Sì devi sottrarmi verso quella E poi Allora o qui O sotto le scale Però a questo punto Ci scaprivano sempre per qualche cazzo Perché c'è sotto le scale in mezzo Ok Ok Adesso abbiamo le telecamere che ci aiutano Con il quadri Dobbiamo Cosa dobbiamo fare Rubar roba o uccidere Non ho capito Eh No Praticamente Questa missione È una serie di Fare obiettivi Andare nelle stanze A cercare roba E poi c'è Alla fine Un Cosa Che dobbiamo derubare Una volta Prima dobbiamo trovare 4 o 5 oggetti di valore In posizioni casuali Ma le telecamere ci aiuteranno E poi dovremmo trovare il volt E derubarlo È pieno di guardie Ma non Dovremmo riuscire a cavarcela Fino alla parte del trovare il volt Ok Occhio che possono Far su e giù anche sul tetto ogni tanto Quindi Non danno per scontato L'unico punto sicuro Veramente sicuro A parte quelli che ha comprato Tad Che non so dove siano Anzi è segnato È segnato sulla mappa dove sono i punti di vantaggio Sì è segnato sulla mappa Guarda a destra Guarda a destra Guarda a destra No ho capito Nella Nell'area del tetto di Sì sì li vedo In cui non passano guardie quindi forzatamente Mi pare di nooo Non mi ricordo Speriamo Comunque Era la Il portatile dove facciamo le varie cose Ok Comunque la zona del portatile è sicura a prescindere Quindi siamo tranquilli Ok Pronto 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 Oh questa volta Fate anche voi qualcosa di stelta Non pare che mi ria No no Divortiti Lo fai qui Guarda Te lo so che sicuramente con lo stesso Senti male Però Insomma Possiamo variare i ruoli Uh che figo Questo per consigliare la roba Che figata Com'è quella roba Oh Guarda Dobbiamo provare 5 oggetti 1,2,3,4 A meno che non ci siano delle keycard Poi in mezzo li stiamo già vedendo tutti Devi alternare velocemente le telecamere Però perchè gli oggetti spariscono dalla visibilità Snake radio Ah il portatile Ah Ormai lo sappiamo in memoria Divo Ma ti spazzo Vai via Allora aperto Eeeh Subito telecamera Mia mia Watch the camera wait Ah ok Come ci siete arrivati lì sotto lì? Dalla scala No no Ah c'è anche il passaggio Volendo puoi tagliare anche da di là però Noi preferiamo passare dalla scala Ah roba subito invece cos'è La telefona Ah eh sì 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 Nel caso vi scocciate di portare il loot Eeeh 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 Bene Facciamo bene C'è Allora cosa c'è su questo piano? Quell'oggetto qua dritto per dritto Quindi sì ci conviene andare Ma c'è anche roba al piano di sotto Ah passano anche lì Guardia non so se viene qua No non viene di qua Allora sta... Stiamo... Ok C'abbiamo più guardia su sto piano qui Ok ok torna Sopra Dalla torna dietro veloce Dalla te Ah c'è una telecamera sopra la porta Sì sopra la porta proprio Infame Vabbè possiamo arrivarti da sotto eh Partiamo da sotto è troppo trafficato qui Eeeh Dove sei tu Snake dietro di te c'è una porta No Tipo Allora qua c'è l'hard disk Preso E' una scala a muro invisibile Non chiedermi perché l'abbiano messa C'è da magnetica se servirà Snake se ritorni da dove sei venuto Là c'è in fondo una porta Eeeh la magnetica No? Lì? Eeeh Avanti? Ah Ok sorvegliamo le porte Dan Guarda quella a sinistra Sì Camera da letto non c'era nient'altro vero? Allora queste porte qui sono vuote Servono giusto a noi per nascondiglio Quindi se avete guardia eh Tornate qua dentro Ho preso il computer E c'è anche il telefono qui Ok Qua c'avete il nascondiglio eh Ah e a quella è anche qua dietro Uh c'è una guardia subito qui cazzo Vabbè non ve ne aspettiamo Cazzo 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 in tre possiamo guardare tutti i passaggi È una figata Sì Allora a questo punto con le scale è molto pericoloso Eeeh Possono venire da tutte le direzioni con le scale Sì infatti a questo punto è veramente stronzo La guardia di prima mi sa che sta venendo verso di noi Io nella lounge non c'è nessuno Potrovo che c'è roba Attento che ci potrebbe essere qualcuno sopra la lounge Sì Ok Qua non c'è nessuno La guardia sta venendo giù Attenzione Dan Merda Sta arrivando uno verso di qua Posso ucciderlo? Eeeh Preferibilmente no se no Inche non ti avete No Per forza Ok Aspetta Aspetta Ricordati di prender sul cadavere Occhio che c'è una guardia sulle scale Eh sì lo so Eh sì lo so Pardon Eh ho avuto tante E' poco da fa E' subito sul cadavere e Via 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 Sì Vedamente Ok puoi venire giù dalle scale Dan Almeno dal mio lato è vuoto da sei sotto Sì sì Vieni a mettere il mio cadavere Vieni giù veloce Sì 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 Vedo il tablet Il mio ha una scelatina No eh sto dentro qua Eeeh no forse è meglio Oddio Sotto le scale Sotto le scale No 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 ci passano Vieni forse nello stanzino qua No è un disastro Mettilo esatto qua nell'angolino Uh guarda vola Eh ogni tanto lo vedono attraverso i muri Ma speriamo non so giro Credo che c'è qualcuno Ah no Di sopra si può arrivare pulito? Non lo so Non credo Cercato di guardare C'è una guardia Però sta arrivando Ok si è spostata Volevo prendere questa cosa qua Di oggetto Ok Ah esatto quello Mi sa che è l'ultimo è rimasto Ah no l'ho preso dal muro E vai Ok ho preso la scheda unirte Che la possa arrivare Ma c'è un oggetto solo Non c'è un oggetto Un oggetto solo? Eeeh Mi sa che viene una guardia di qua Si Mi sa che ci conviene scendere Dan veloce Ups Eeeh No niente niente non venire di qua Esatto Ok Per vedere gli oggetti Li vede Tad Li vede Tad Si se sono visibili Se no vuol dire che dobbiamo andare alla cieca Eh Sono quello giallo no? Quello giallo lì? Mi sa che è la teleferica però No no ce n'è uno giallo Ah eccolo la sopra Sì e abbiamo già preso due schede magnetiche Quindi è per forza un oggetto Si C'è qualcuno sulla scale? Eeeh C'è qualcuno Sta volando da Noi Attenti Ok dobbiamo andare al piano di sopra Quindi da di qua Ma molto attenti Occhio che attraverso il vetro te vedono Sì 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 Occhio che rimane qua C'è la camera qua? Non spero Ok Mamma mia quanto vicino Mettiamo doveva quello Ok Fa dritto se puoi venire Io Arrivo veloceee Si alzati che così Vabbè Cambia poco Vale Dobbiamo prendere No qual è l'altra teleferica qua la sopra? Dov'è l'oggetto? E' su questo piano l'oggetto In realtà Oh vabbè Aspetta Occhio alla guardia destra E' dentro la stanza Non è più uscito Aspetta rimango fermo Vedo se riesco a vederlo Giusto Buona idea E tendi che tipo Vedete la guardia tipo a destra no? Ci sta Sta alla moda Questa è là È là Ok Allora conviene andare Dov'era l'oggetto? Qui È tipo lì, sì, da qualche parte Ah, girati forse sul... Ah, eccola Ce ne guardi a razzo? Occhio arrivano le guardie Mamma mia È girato Come vediamo che sto facendo? Guardi, guardi, guardi C'è il guai C'è che sta uscendo la guardia dal... No, sì, sta uscendo dallo staffino Ma la porta non è stata aperta Allora la possono aprirla anche loro Ce n'è una seconda che sta per uscire Ok, aspetti a... No, sta fermo però Ok, muoviamoci allora, sì Uh, attenti, giù Veloci, veloci, veloci No, no, mi sono perso Mi sono perso, arrivo, arrivo, arrivo Dai, ce l'abbiamo fatta Almeno sta fase VOLVE Beh, ho dovuto uccidere uno, ma ok Dispositivo, no Cosa fare? Ah, G, devo fare per lasciare la scheda, no? No, perifero La scheda serve per aprireci un'eventuale porta Ah, ok Adesso fanno tutte cose, ma da hacker E vediamo Un verbo sociopatico di quartiere, rimanda qua a vedere Eh... Madonna Oh, che palle, è vero, dobbiamo accedere al computer Eh... Eh... Allora dovete andare nel suo ufficio Ah, buona fortuna Non so, dove si si trova Ah, è inquadrato Era stato inquadrato per un attimo Sì, eccolo lì Però da lì, no? Perché c'era delle camere Quindi tocca passata qua Ok, è su questo piano Dove cazzo? Ok, teniamo d'occhio il corridoio Eh, sì, è questo il sospice vero Tanto ne abbiamo ucciso una sola Sì Ok, in questo caso conviene avere sempre delle persone che tengono d'occhio il volto quando lo troviamo C'è anche la telecamera dall'interno del volto, vediamo se riesci a vedere dov'è Sì, è un... No, io vedo l'interno, non l'esterno Minchia, che palle da parte Se dovrai tipo andare a distinto E tipo... Chi è quello in blu? Chi è quello in blu? Eh? Io? Alzate la testa velocemente Io sto facendo no Io adesso sono alto Adesso sono basso Sì, sì, Dan, Dan Cioè, letteralmente se dovrei dirvi dov'è il volto È perché monte, eh, girati Ok, fermi proprio Eh, sinistra un po' Eh, fermo È come se dovessi andare letteralmente dritto e poi a sinistra Oh! Qualcosa Quindi dappi, c'è una guardia a destra, vista prima, quella Occhio Eh, ecco, cioè, se dovrai dirvi una posizione è come se tipo O forse dovessi andare avanti, sinistra Ehm, e poi... E qui, qui giù? Spero di sì Qua? Sì, 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 come se ci siete davanti, praticamente Provo, provo questo, allora Vediamo se non ci scoprono Vediamo bene Vieni da, sì Ok, sì, qua Ok, entra In modo che la prende la cocaina su Allora, dobbiamo... Dobbiamo stare attenti perché... Sì, anche se la porta là, serve Esatto Alipari si può rispostare, comunque, eh Quindi dobbiamo rispostarla, se no se scoprono Allora... Ah, si può rispostare? Sì, sì, sì Allora, esci, Dan, esci Ok È questo, eh, ora Sicuro si possa rispostare, io non riesco Sì Ci sta, stasfero Ti faccio io Oh Andiamo, andiamo, andiamo Prendiamo la cocaina Ma vada, vede prima, cazzo Che sta stronzata, mannaggia la droga Allora, così, tutta un'altra cosa, cazzo Questa roba che è la cocaina? Eh, capo, io è dell'altra volta che ci avevo pensato che poteva essere quello il motivo Però non ho mai visto il tasto, quindi Potete metterla qui sopra, forse? Eh, qui, giù, no? No, facciamo i viaggi interi, è più sicuro Ok Ma delle ferie che non ho capito, sinceramente, bene Comunque è stata veramente utile quella visualizzazione Com'è fatto, in effetti, a dire dov'era? Praticamente io vedevo Oh, c'è una guardia sotto te Io praticamente vedevo dall'interno della volta Però vedevo ancora Ah, la nostra silhouette Viene proprio qua, Chris Sta salendo anche una No, merda, che disastro Ah, occhio, occhio Che disastro Ce l'avete a due metri A un metro, cioè Vi è passata a pianto Ok, vai Controllare la scala? Sì, sì È perfetta che vi chiedevo Chi è blu, chi è giallo Sto commotuti Hai fai caso se ti dice che è l'ultimo avviso? Ok No, non credo Credo, dovrebbe essere No, no, non credo che è l'ultimo avviso Stai rispondendo tu? Ok, perfetto Ah, non posso sbarazzarmi del cadavere, cazzo Ah, io sì, se vuoi Dunque Ah, no, è anche tu Trasporti la coppina Sì, lasciarla qui Gli datemi la roba dei copp E poi io ve la posso lasciare io Ah, ok C'è ancora il corpo? No, l'avete già preso Ti sto passando il corpo Ok, quella è qua Dunque Ok, questa zona dovrebbe essere Deve essere pulita per un po' Cioè, abbiamo massacrato Ok, tocca a un tralasto piano Che palla è stata la camera Prova, sì Occhio, c'è qualcosa altro Ok Vai, avvicino La saprò La faccio io Non c'ho da palo Per ora nessuno Vai Chiudi Eh, non appare Ah, devo guardare sulla porta Non sulla libreria Ok, sta arrivando uno No Però Ok, spalla Andiamo Non c'è Non c'è Non c'è Ah, è giusto Oh, mi sono messo a scattare Quanta cocaina Quanta Ma se non ascondessimo nell'angolo o no? No, ad oggi sarà un altro viaggio Ok No, gli serve un altro viaggio Almeno due Almeno due Oh Alla, il vuoto dietro l'angolo Qua sotto C'è l'ho Alla dietro Ok, lì ce n'è uno Cattiamo Ok 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 Ricordatevi che con un certo palanto Potete mettere Sa che viene su dalle scale Occhio Sì, sì, sì Viene su dalle scale Entrate Chiudete 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 No, merda No, cazzo Ok Oh, no, no Ok No, mi si chiuderebbe Va bene così Va bene così Eh, sì, è stato un pochino tattico Però sì Vuta La scelta nostra Sto chiudendo Sto chiudendo Scusatemi Mamma mia che paura Ok, venite È libero È libero Libero Ah, c'è il vetro Potevamo vederci da lì Sì, da lì sì Ogni tanto questo L'ultimo borsone Ah, c'è un altro? No, no Sono appinto tale Ne avete consegnati sei Andiamo avanti noi Oh, occhio al vetro Ah, quella Altro che vetro Veloci, veloci, veloci Sì, no No, questo viene qua No No, perfetto Ok No, incredibile C'ha la luce C'ha la luce impiantata nel petto C'ha le mani giù Fantastico È sempre meglio di quando camminano all'indietro Sì Che palle quella guardia Scendiamo verso lì sotto Tanto questo Sto avendo un momento Sto avendo un ruolo qua Ok Ok Prima scende Ovviamente scende Via 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 Camera da letto Nell'angolino Ah, qua c'è la No Usa la telecamera E' un'altra Vedi se lo riesci a vedere Grande Sì, se lo riesci a vedere Posizionato lì davanti Sì, po' che caso, vero? Sì, se lo riesci a vedere Sì, se lo riesci a vedere Senta la nostra pulsa Senta la nostra pulsa, senti? Siamo potuti sempre questi cari No, 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 fatelo Ma non potevate andare nella stanza Che avete aperto con la patta di sicurezza? Oh, oh, sta passando per di qua Sta passando per di qua Eh, eh, andate Ah, andate Addio, astruzzo Vabbè Questo viene di qua Oh, oh, qualcuno sulle scale Merda Ok Ok, torno indietro Torno indietro Veloce Bravo Mi rimarchiate Così, torna di più La cosa Eh, questa è ancora E' bellissimo Vedere le silhouette Tipo, lì Che compagno Trollo sotto Dove sono? Ah, vincenzo Mi sa che è dall'altro lato del muro Non so Sì Ok, facciamo una sinistra Ok Direi che possiamo passare Aspetta Ok, sì, vai Può passare Ma poi che toccava Tocca apri? No Dobbiamo andarcene Ok Cazzo Ah, possiamo ripulire il vault Via, via, via Una guardia Ma io direi Io direi anche a sti cazzo Dobbiamo farmi Ah, dobbiamo farlo Potrebbe Apri la porta del cavo Dov'è la porta del cavo? Vabbè In questo ci possiamo chiedere dentro E mettere il trapano Cioè Ah, giusto, giusto Giusto Tanto ci guarda Tad fuori Beh, no Il problema è che Io non posso guardare fuori Della porta del vault Allora entro solo io Dentro il vault Perché ho il trapano silenzioso Ok Vado Però il problema è questo Il problema è questo Ci sono dei cosi laser Oltre la porta del vault Non so come si disattivano Ah, io intanto metto il trapano Poi vediamo Chiudo io Forse dovrete usare il dark spot Ah, aspetta però Non c'è nessun comando Per interagire col vault No Intanto lo chiudo Perché la sicurezza aspetta Buona idea Io intanto resto qui Questa è la mia nuova casa Ah, minchia Qua Non sono scorsa Però così Forse riesco a vedere Chi arriva Ok Arrivano le guardie Ok, sto provando ad accoltellare La porta del vault Secondo me basta Insistere abbastanza No, comunque Non c'è letteralmente Nessun comando Sulla porta Beh C'è C'è Una cosa sul Sul computer Arrivano le guardie No Non arriva Su Ok, dovete interagire Col computer in camera da letto Va a supportare Sì, per favore Oh, merda Forse trova il cadavere No No, l'ha lasciato stare Ok, fantastico Uh, attenti al laser Attenti al laser Sì, ci sono i laser E non posso intoccarli Aspetta, posso fare un'altra Basta Aspetta Allora Puoi usare di nuovo i computer Per toglierli Per un breve periodo Ok Ferma Non andare troppo velocemente Altrimenti si potrebbe Vagliocchi male Basta, basta Fai a Fai a fase Con calma Non so neanche cosa scrivere Ok, ho paura di quanto duri ancora la cosa Quindi prendo solo queste quattro Non lo so Sì, lascio lì là per il momento Buona mano Ok Ok, fermo 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 Cazzo, il tipo che mi fa Mi dispiace lasciare loro Dico, cazzo Io riuscivo a prenderlo tutto In sto tempo Che dite, rientro? No, no Non rientrare Non rientrare Aspetta che si riattivano Ok, sta facendo un rumore Ok, si sono riattivati Ah, puoi riattivarli Sì, quando vuoi, vado Vai, vai Vai, vai, vai Mi sto ben passando Sono dentro Amin Vai, vai, vai Tanto fa non suono prima di riattivarsi Eh, ho visto Per la quarantina, infatti Vai Ok, ora Tutto Sì, tutto Ok, sono otto Quindi adesso Adesso pian piano Iniziamo Non ci faccio A portarli Sì, venite di qua Va via Danerigo Facciamo un giro Allora In tre Ci vorranno tre giri Tecnicamente Se vengo io Passiamo a fare tutto In due giri Ma non so Ma ti cachi È normale Come faccio a non cagarmi Bisogna prendere le cose Chiudere E portarli Cioè, bisogna farla Insomma Con calma Rigazzi Se vuoi apro Io ci sto Sto pure Danerigo Ok Prendete una testa Prendi una veloce In realtà Sai che lì Ah no, niente Niente Vai, chiudi Ok, chiudo la porta E andiamo Vai, vai Però non c'è nessuno Ok Non possiamo correre Con questa roba Vabbè, basta No, non potete Non potete Usa la camera Per vedere Quando si avvicinano E poi Non potete Non potete Pulito Ok Non si aspettavano Che mettessimo Loro di fuori Prendi tutto Te lo passo Da Tad Ok Potete metterli Anche su quella Z-Prim Credo Ah Vabbè Puoi farlo te Intanto Se vuoi Vabbè Sì, la faccio io Guarda Uhlala Aspettavo un po' di più Da Dell'Oro Puro Non mi piacciono Quei 5 dollari Infatti Ci state? Ci sto Sì Sì Io mi metto A fare la percezione Ad aria Nulla Vai Prendi Dan Ok, sto chiudendo Vai, vai, vai Ok, via, via Stranamente Gli script Stavolta Non ci hanno Remato contro Beh Li abbiamo Sparato in faccia Gli script Gli script Abbiamo anche Moonwalk out Per non farvi vedere Quindi Sì Grazie Non me la sbalcisca Per favore Ok C'è una guardia Di sotto Non so in che stanza sia Però Intanto Riscare dietro L'idea Ah cazzo È vero Non so quante guardie Sono rimaste Oh ce n'è uno Dietro la porta È passato Sì ma va proprio Dove serve a noi Cristo E invece Torri dietro La 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 Oh guarda qua Deve ho molta voglia Di venire qui Va giù Ok Io mi nascondo Nella stanza Perfetto Gli script Stanno Ok Sta scendendo Sì Sì sta scendendo C'è un altro lì Però Siamo all'altro lato Ok Possiamo andare Sono due I borzoni mancanti Vero No Sì due Aspetta che viene Ah è nella stanza Vabbè andiamo Vi avro Sta ritornando sopra il tizio Sta ritornando sopra Ok Al massimo ci chiediamo Dentro un attimo Ah no sta tornando Nella stanza No da mind Sta tornando Nella stanza del tizio Guardare il letto Pensando al cazzo Questa La ritorniamo a me Chiusa Ok Sì Vedo tutto ok Salita salita Ok Uh la la Bello Dai ok Possiamo mettere il suo preferico Direttamente No Eh ma No No Ok Questa Sì qua Qua Ok 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 Allora qui che cambia Con questa zona qua Lei può andare Ah no Ci portiamo via il cadavere Infatti lo prendo su No 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 Prendete il cadavere Ce lo portiamo a casa Come ricordo Quasi così avrei raccolto Pure quello di sotto Direi di sì Cazzo È andata perfetta GG 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 cazzo Drugs Ero vinto No Politician Zero Well done Very smooth operation in there Sempre non la cocahima Sono veramente soddisfatto Questo gioco è tutta un'altra cosa In quattro comunque Oh Sempre meno della cocahima Vediamo dove lo mettete Oggi vi posso rovinare la giornata No Vabbè Uh soldi 61 No cazzo Eh vabbè Allora facciamo così Così 2-2 In qualche modo l'equilibrio va riportato Perfectly balanced Oh No 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 No